È in pieno svolgimento lo sciopero dei lavoratori portuali, come sta andando l'adesione? Bene, nella prima giornata di questi due giorni di sciopero a livello nazionale per quanto riguarda il rinnovo del contratto dei porti è andata molto bene, qua a Spezia sta andando in pieno svolgimento comunque questo sciopero dove stiamo registrando una forte percentuale di astensione dal punto di vista del lavoro. Questa agitazione quanti lavoratori coinvolge sul porto di Spezia? Coinvolge in circa un 800 persone perché comunque facendo riferimento agli articoli 16 e articoli 18 abbiamo in circa un 600 persone che ne fanno parte di questa categoria qua quindi diciamo che siamo intorno al 90-95% di adesione nei primi due bar a tre turni perché comunque qualche avvisaglia anche del terzo turno che si sta andando a prestare in porto è molto alta, siamo molto contenti. Ecco, si tratta innanzitutto di un'agitazione unitaria che coinvolge tutti e tre i sindacati che cosa chiedete nel rinnovo del contratto nazionale? Sì, diciamo che la cosa principale comunque è ridare un pochino di forza da un punto di vista economico perché comunque in questi anni c'è stata una grossa perdita di potere d'acquisto da un punto di vista del salario per ora le partitoriali sono ritornate un pochino sui loro passi, ci stanno venendo un pochino incontro ma non siamo ancora contenti di quello che ci hanno proposto quindi speriamo che dopo questo due giorni di sciopero comunque ci ricombio quindi a un tavolo unitario a Roma e si vada a firmare, si vada alla firma di questo contratto. Ci sono particolari rivendicazioni che riguardano il porto di Spezia? No, diciamo che sono comunque rivendicazioni che facciamo da tutta Italia come ripeto comunque il discorso dell'aumento dei salari è una cosa che ci preme in particolar modo a Spezia ma come in tutta Italia comunque per questo rinnovo del contratto.